Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpalo. Un modesto campo anticiclonico garantisce condizioni stabili e soleggiate fino alla prima parte di sabato quando l'ingresso da nord di infiltrazioni fredde in quota favorirà una generale accentuazione dell'instabilità. Domenica miglioramento con residua instabilità nell'interno inizio della settimana che si annuncia in prevalenza soleggiato e con temperature in aumento. Il dettaglio oggi venerdì 28 maggio sereno al più poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi dove non si escludono brevi isolati rovesci più probabili sull'Appennino di Levante. Venti deboli a prevalente regime di brezza lungo la costa, deboli di direzione variabile nell'interno. Mare poco mosso, temperature massime in aumento lungo la costa tra 18 e 23 gradi, nelle zone interne tra 22 e 24 gradi. Domani sabato 29 maggio al mattino poco nuvoloso, irregolarmente nuvoloso, addensamenti via via più consistenti sui rilievi che dalle ore centrali potranno dar luogo a rovesci o temporali anche moderati, più probabili a Levante. Nel corso del pomeriggio fenomeni a caratteri irregolare più diffusi ovunque con locali sconfinamenti che potranno raggiungere la costa di centro a Ponente in serata. Venti al mattino deboli in prevalenza da sud-ovest, nel pomeriggio prosegue la ventilazione debole con locali rinforzi da sud-ovest a Ponente. Mare al mattino calmo, quasi calmo nel pomeriggio, generalmente poco mosso, temperature minime stazionarie lungo la costa intorno a 14-15 gradi nelle zone interne tra 10 e 12 gradi. Massime stazionarie lungo la costa tra 19 e 22 gradi nelle zone interne tra 20 e 22 gradi. Dopodomani, domenica 30 maggio, nelle prime ore addensamenti anche consistenti sul centro Ponente con residui rovesci di pioggia. Rapido miglioramento al mattino con cielo poco nuvoloso, irregolarmente nuvoloso. Nel corso della giornata in prevalenza soleggiato lungo la costa, addensamenti pomeridiani sui rilievi interni dove non si escludono brevi isolati rovesci di pioggia. Venti al mattino deboli o moderati da nord-ovest sul centro Ponente, deboli settentrionale altrove. Nel pomeriggio in generale deboli di direzione variabile con brezze lungo le coste. Mare poco mosso sugli estremi della regione, calmo, quasi calmo sul centro, leggermente mosso a largo di Ponente al mattino per onda corta da nord in calo. Temperature minime stazionarie lungo la costa intorno a 16-17 gradi, nelle zone interne tra 9 e 14 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 20 e 23 gradi, nelle zone interne tra 21 e 23 gradi. È tutto, seguite i ragionamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal e sul profilo Instagram dell'agenzia. A risentirci!